Ciao! Ciao a tutti! Tutta questa voce tipo che sfiga! Ciao a tutti bentornati nel mio nuovo video di Verda. Ecco, forse. Oggi faremo un video dove rispondiamo alle domande che mi hanno fatto su Ask. Sono 20 domande. Prima domanda. Cosa pensi possa rendere attraente l'aspetto di una persona? Il fisico, l'anello. Il fisico? Secondo te sembra essere un ballone? Un ballone? Ovvio! Non devi essere una... balena! Ma neanche una... di essere così, normale. Eh, come noi. Come noi siamo noi. Forse. Però è anche vero che ha anche il carattere. Se uno ha uno stronzo di merda come quello che mi ha scritto, ecco, allora non è attraente. Seconda domanda. Ti piace guardare il box? Quale incontro è stato il più interessante? Allora, no, non mi piace guardare il box. A noi non ci piace guardare le box, ci piace dargliele, vero? Eh, però ho guardato un film. Non so se hai scritto al film. Oh. Boica. Ecco. Quello che si chiede. Oh, Warta. Boica. Credo. Sì. Eh, quello ha un bel film, dai. Oggi non glielo ho capito. Quindi, terza domanda. Come posso contattarti? Penso una banda. Su YouTube, sotto un video, scrivimi un commento, oppure su Instagram. Ciao. Ecco. Non ho Facebook. E non vi do il mio numero. Bitch. Stai anche su Facebook. Se la gente risponde male su Twitter, ecco, sai lì che faccio lo blocco. Ecco, se volete seguirci su Instagram, suo, mio. È bon. È bon. È bon. Quarta domanda. Fatti una cazzo di vita sociale. Ecco. 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 Uno. Fatti una cazzo di vita. E non roppa il cazzo. Su. Trish. 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 Comunque. Che cazzo vi frega voi se non mi faccio una vita sociale o se mi faccio una vita sociale? Trancazzi miei. Oh. Anche. Quinta domanda. Chi è l'ultima persona dell'altro sesso con cui hai parlato? I suoni. Chi? Com'è nessuno? Almeno sono un mascio, sono una donna. I suoni? Sì. Come no? Lorenzo. E in chat? E in chat? E in chat? Sempre stessa roba, Luca. Allora, dal vivo il mio moroso. In chat e con Lorenzo del... Mmm. Mi raccomando andate sul suo canale e mettere dislike. Grazie. Ecco. Sesta domanda. Programmi per oggi. Cos'è che dovevamo far noi? Beh, a parte fare sto video del cazzo. Mmm. Ah sì, dovevamo fare anche l'altro video, vera? Con la maschera ci sarà da vivere. Ecco, quindi oggi non andiamo in nessuna parte, vero? Adesso di pomeriggio o stasera, sì? Ando. Sì. C'è per la... E te pare, e te pare! Ve lo man... Sì! Che scommetteva? Cosa va a far lì? Svegliare. Ah, bene. WTF? Settima domanda. L'anno prossimo a che scuola andrai? Da nessuna banda. Ecco, io non vado a scuola nel bel pezzo, quindi... che mancheria? Ecco, questa è la scuola. Ecco. Ecco, la brusa, la brusa, la brusa, la brusa, la scuola. Iee! Eh, io non vado a scuola, quindi non vado. No. Nona. Nona. Gelato o pizza? Cosa preferisci? Il gelato o la pizza preferisci? Quando fa caldo il gelato, quando fa... La pizza. O tutto l'inverno siamo mandati a mangiare la pizza. Tutto l'inverno. Adesso è il momento del gelato, vecchia. Eh, è vera, questa è vera. È vera. Decima domanda. Cosa ti fa andare avanti? Boh. Eeeh... Boh. Grazie a voi. Grazie a voi. No, sti fa andare avanti, in senso... Tipo? Nella vita, cioè... Qualche creazioni su... Qualche creazioni su... Qualche creazioni degli altri? Oh ma... Sì, molto interessante farci a crearsi degli altri, vero? Quindi questa è la tua risposta Poi Undicesima domanda Pensi di essere cambiato nel corso Dell'ultimo anno? In che modo? Boh Sei più rettura di coglioni? Quello sicuro Ecco Altro? Sei più mongoloide Sì Questa Beh Hashtag mongole Nell'ultimo anno siamo cambiati tantissime cose Come ad esempio abbiamo fatto il profilo di mongole Io ho preso la patente Ci siamo ubriacate Ecco siamo invecchiate di un anno Fantastico Ecco Basta Ah e siamo accessi lo stesso Tredicesima No che cazzo di Dodicesima domanda Soffri il solettico ai piedi La risposta è Se me lo fai ti tiro un cazzo Questa roba Ecco anche un calcio Bon Tredicesima domanda Ah non solo ai piedi comunque Non potete vedere le bande Come qua? Non voglie Tredicesima domanda Tredicesima domanda Quali film hai intenzione di vedere l'anno prossimo? Nessuna banda Nessuni? Ah nessun film Prendi dalla voia Senti dalla voia di farti cazzire Se io mi faccio netflix forse li guardo Se no come cazzo fai a guardarli Quattordicesima domanda Cioccolato al latte o fondente? Cioccolato al latte Brava Ma ci sono alcuni cioccolati fondenti che non sono male Cioè sono buoni però non è che vado a fare Quinticesima domanda Che fai sabato? Oggi è sabato E noi facciamo un Cazzo LOL Come sempre LOL No dai forse siamo Forse Forse Dalla voia Depende dalla voia esattamente Tredicesima domanda Che intenzione Che? Ah che invenzione manca a casa tua Allora io ho il pc portatile Il pc fisso Il tablet Il telefono Basta Basta E internet Sì ma è l'invenzione Nel senso Tu hai il telefono Cos'altro hai? Tablet E basta Ah quindi non hai il pc fisso Sì ce l'hai Ce l'ho ma Però non lo usa E il portatile? Il portatile ce l'ho ma non ce l'ho Diciasettesima domanda Fai stealthy ogni giorno? La risposta se che voglia Io no Cioè a me non mi vedi tutto il giorno a fare No 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 Diciottesima domanda Domanda notturna Che genere di film per te ti piacciono? Tutti tranne horror Io Calle L'ultima volta che io ho visto horror era con Anna a casa sua Vero che bel film Quello Quello horror a casa tua Si chiamava animal Quello del genere Quello tipo horror E mi disse Eravamo al buio Nessuno a casa sua Non c'era Noi due come due mongole stavamo guardando sto film A un certo punto E vedi stasera tutte e due La faccela Già Fare i podcast degli altri Come tutto l'anno Stare con l'una Mangala Ce l'ho io Ecco Sono a casa di me Perché non mi sento con nessuno Cioè non voglio Ecco le domande sono finite E Pazzarda Sono finite E quindi noi ci salutiamo Ciao Arrivederci Quindi niente Se vi è piaciuto questo video Lascia il like Scriviti al mio canale Seguitici su Instagram Qua il suo Qua il mio Qua il mongole Ok Roll Quello delle mongole Siamo tutte due Ciao E niente Noi adesso Chiudiamo sto video E andiamo a fare un altro video epico Ciao Ciao